VANGELO DI SAN LUCA CAPITOLO VIII Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti sette demoni, e Giovanna, moglie di Cusa, amministratore d'Erode, e Susanna, ed altre molte che assistevano Gesù ed i Suoi con i loro beni. Or, come si radunava gran folla, e la gente d'ogni città accorreva a lui, egli disse in parabola. Il seminatore uscì a seminare la sua semenza, e mentre seminava, una parte del seme cadde lungo la strada, e fu calpestato, e gli uccelli del cielo lo mangiarono. Ed un'altra cade sulla roccia, e come fu nato seccò perché non aveva umore. Ed un'altra cadde in mezzo alle spine, e le spine nate insieme col seme la soffocarono. Ed un'altra parte cadde nella buona terra, e nato che fu fruttò il cento per uno. Dicendo queste cose, esclamava, chi ha orecchi da udire, oda. E i Suoi discepoli gli domandarono che volesse dire con questa parabola. Ed egli disse, a voi è dato di conoscere i misteri del regno, ma agli altri se ne parla in parabole, affinché vedendo non vegano, e udendo non intendano. Or questo è il senso della parabola. Il seme è la parola di Dio. E quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo, e porta via la parola dal cuor loro, affinché non credano e non siano salvati. E quelli sulla roccia sono coloro i quali hanno udito la parola, la ricevano con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo, e quando viene la prova, si traggono indietro. E quel che è caduto fra le spine, son coloro che hanno udito, ma se ne vanno e restano soffocati dalle cure e dalle ricchezze dei piaceri della vita, e non arrivano a maturità. E quel che è in buona terra, son coloro i quali, dopo aver udito la parola, la ritengono in cuore onesto e buono, e portan frutto con perseveranza. Or, niuno ha acceso una lampada, la copre con un vaso o la mette sotto il letto, anzi la mette sul candeliere, a ciò che chi entra vegga la luce, poiché non ve nulla di nascosto che non abbia a diventare manifesto, né di segreto che non abbia a assapersi ed a farsi palese. Badate dunque come ascoltate, perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha, anche quel che pensa d'avere gli sarà tolto. Or sua madre e i suoi fratelli vennero a lui, e non poteano avvicinargli sia motivo della folla. Egli fu riferito, tua madre e i tuoi fratelli sono là fuori, che ti vogliono vedere. Ma egli rispondendo disse loro, mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettano in pratica. Ora avvenne in uno di quei giorni che egli entrò in una barca coi suoi discepoli e disse loro, passiamo all'altra riva del lago. E preso il largo, e mentre navigavano egli si addormentò, e calò sul lago un turbine di vento, talché la barca s'empiva d'acqua, ed essi pericolavano. E accostatsi lo svegliarono dicendo, maestro, maestro, noi periamo. Ma egli destato si sgridò il vento e i flutti che s'acquettarono, e si fe' bonaccia. Poi disse loro, dov'è la vostra fede? Ma essi impauriti e meravigliati dicevano l'uno all'altro, chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua, e gli ubbidiscono? E navigarono verso il paese dei Geraseni, che è di rimpetto alla Galilea. E quando egli fu smontato a terra, gli si fece incontro un uomo della città, il quale era posseduto da demoni, e da lungo tempo non indossava vestito e non abitava in casa, ma stava nei sepolcri. Or, quando ebbe veduto Gesù, dato un gran grido, gli si prostrò d'innanzi, e disse con gran voce, Che v'è fra me e te, o Gesù, figliuolo dell'Iddio Altissimo? Ti prego, non mi tormentare, poiché Gesù comandava lo spirito immondo d'uscire da quell'uomo. Molte volte, infatti, esso se n'era impadronito, e benché lo si fosse legato con catene e costudito in ceppi, aveva spezzato i legami, ed era portato via dal demonio nei deserti. E Gesù gli domandò, Qual è il tuo nome? Ed egli rispose, Legione, perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro ad andare nell'abisso. Or veranquivi un branco numeroso di porci che pascolavano per il monte, e quei demoni lo pregarono di permettere loro di entrare in quelli. Ed egli lo permise loro. E i demoni usciti da quell'uomo entrarono nei porci, e quel branco si avventò a precipizio giù nel lago ed affogò. E quando quelli che li pasturavano videro ciò che era avvenuto, se ne fuggirono a portare la notizia in città e per la campagna. E la gente uscì fuori a vedere l'accaduto, e venuto a Gesù trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito in buon senno, e si impaurirono. E quelli che avevano veduto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. E l'intera popolazione della circostante regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse da loro, perché erano presi da grande spavento. Ed egli, montato nella barca, se ne tornò indietro. E l'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter stare con lui. Ma Gesù lo licenziò dicendo, Torna a casa tua, e racconta le grandi cose che Dio ha fatto per te. Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando quanti grandi cose Gesù aveva fatto per lui. Al suo ritorno Gesù fu accolto dalla folla, perché tutti lo stavano aspettando. Ed ecco venire un uomo chiamato Iario, che era capo della sinagoga, e gittatosi ai piedi di Gesù lo pregava di entrare in casa sua, perché aveva una figlia unica di circa dodici anni, e quella stava per morire. Or, mentre Gesù vandava, la moltitudine la affollava, e una donna che aveva un flusso di sangue da dodici anni, e aveva spesa nei medici tutta la sua sostanza senza poter essere guarita da alcuno, accostatesi per di dietro, gli toccò il lembo della veste, e in quell'istante il suo flusso ristagnò. E Gesù domandò, Chi m'ha toccato? E siccome tutti negavano, Pietro e quelli che erano con lui risposero, Maestro, le turbe ti stringano e t'affollano. Ma Gesù replicò, Qualcuno m'ha toccato, perché ho sentito che una virtù è uscita da me. E la donna, vedendo che era rimasta inosservata, venne tutta tremante, e gittatosi ai suoi piedi, dichiarò in presenza di tutto il popolo per qual motivo l'aveva toccato, e com'era stata guarita in quell'istante. Ma egli le disse, Figliuola, la tua fede t'ha salvata. Vattene in pace. Mentre egli parlava ancora, venne uno da casa del capo della sinagoga a dirgli, La tua figliuola è morta, non incomodare più oltre il maestro. Ma Gesù udito ciò rispose a Iario, Non temere, solo abbi fede, ed ella sarà salva. Ed arrivato alla casa, non permise ad alcuno di entrare con lui, salvo che a Pietro, a Giovanni e a Giacomo e al padre e alla madre della fanciulla. Or tutti piangevano e facevano cordoglio per lei, ma egli disse, Non piangete, ella non è morta, ma dorme. E si ridevano di lui, sapendo che era morta. Ma egli, presa la per la mano, disse ad alta voce, Fanciulla, levati! E lo spirito di lei tornò ed ella si alzò subito, ed egli comandò che le si desse da mangiare. E i genitori di lei sbigottirono, ma egli ordinò loro di non dire ad alcuno quel che era avvenuto.